Una riforma epocale attesa da decenni ma che, come tutte le rivoluzioni, inevitabilmente divide. Con le modifiche al codice della strada che il Parlamento sta elaborando si prevedono infatti novità importanti per chi viaggia in strada tra due e quattro ruote. Maxisanzione per guidatori beccati con uno smartphone alla guida alla prima violazione ci sarà una multa da 422 euro a 1697 più la decurtazione di 5 punti sulla patente e la sospensione della stessa da 7 giorni a 2 mesi. Per i recidivi la sanzione pecuniaria salirà da 644 a 2588 euro con la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione di 10 punti. Quanto al semaforo la riforma del codice porta la durata minima della luce gialla a 3 secondi prima che scatti il rosso. Saranno così uniformate le regole per evitare il fenomeno del giallo di breve durata con variazioni da comune a comune o da strada a strada. Così chi sopraggiungerà a qualsiasi incrocio mentre il semaforo da verde diventa giallo saprà che avrà almeno 3 secondi per passare multe più severe per chi usa indebitamente i parcheggi destinati ai disabili o sosta nelle postazioni ricarica per veicoli elettrici da 168 a 673 euro più 4 punti tolti dalla patente. Più sicurezza prevista anche per gli attraversamenti pedonali le amministrazioni locali potranno prevedere sensori luminosi e rialzi della carreggiata.